allora intanto vi mostro queste cose che mi sono arrivate da wish perché io faccio gli ordini un periodici e poi dopo si vede che arriva un container che poi scaricano e quindi mi arriva tutto assieme quindi mi arriva roba che magari ho ordinato una settimana fa come quelle che mi sono ordinato due mesi fa dunque tutto quello che vi mostro l'ho pagato 1,85 euro 1,90 euro totale perché ed è sempre col gruppo d'acquisto 0,95 più 1 euro di spedizione poi dipende se è lo sconto del 10 o del 5 per cento comunque prima di tutto vi mostro perché così poi sposto il cavalletto questo contenitore che dentro è plastificato eccolo qui che è carino in tessuto fuori a qua e questo qua è anche bello grande e mi serviva da mettere in bagno quindi ok sempre penso 1,85 euro comunque questo mi serviva poi adesso e iniziamo a tirare fuori le cose dunque allora questo qui che è bellissimo è un portapenne sembra è anche bello grande è fatto bene ben rifinito in plastica rosa potrebbe essere anche un vasetto ma io lo uso come portapenne e so già dove metterlo lei ho visto da mia madre che l'aveva già preso mi è piaciuto ho detto no lo voglio anch'io e l'ho preso poi mette a fuoco andiamo avanti mollettine allora queste qui sono oddio questa incastrata 1 2 3 4 5 6 7 8 10 di queste mollette fatte così e sono comode per tutto io ad esempio ci chiudo i pacchetti in cucina anche e li avevo finiti e questi qua adesso ho una scorta di quelle che davvero posso andare avanti per un bel po' e sono davvero comodissime sì soprattutto per i pacchetti di cucina la pasta i biscotti mi trovo davvero molto bene e non so perché in casa mia si disperdono quindi altre mollettine intanto le metto dentro qui poi questi erano assieme i miei amati cerottini per il naso questi qui allora 2 3 4 5 6 7 8 10 esatto quindi erano due pacchi da 10 tutte e due nello stesso pacco quindi l'ho pagato 1 euro 95 o 1 euro 85 di tutti e due spedizione compresa questi qua sono fenomenali quindi per un po' ho scorta poi dopo iniziamo con il boom degli anelli allora questo qui era in omaggio non mi ricordo con quale anello di però è carino insomma non so trasferelli trasferelli secondo me va bene allora iniziamo dunque vi mostro prima questo che era fuori dalla confezione iniziamo a vedere se mette a fuoco sì questo è un gattino aspettate no vogliamo parlarne ecco poi questo che invece era dentro la bustina ah sì questo ha il cuoricino il cuoricino con una pietrina che non metterà mai a fuoco eccola qua dall'altra invece c'è il cuoricino in argento e poi è fatto tutto così è bene anche questo bustina vuota quindi avrò disperso l'anello da qualche parte ok altro anello questo qui ci avevo quasi perso la speranza perché l'ho ordinato secondo me maggio e doveva arrivare veramente entro luglio però non volevo far chiedere il rimborso per un euro 85 peccato perché era bellissimo e infatti è vivo finalmente è arrivato si vede che hanno aperto il container sempre a tema gattoso aspettate che così forse si vede meglio allora è un gattino con la pallina adorabile poi ecco questo qua è bellissimo anche questa consegna prevista era inizio d'agosto però immaginavo che tutto sblocicoso questa è la luna con una stella è stupendo e comunque ho preso le misure degli anelli e da quando ho il misuratore per anelli che avevo mostrato in un video secondo me non ne sbaglio uno sono fantastici anche se sono regolabili però se iniziamo a stringerlo o allargarlo si potrebbe cedere invece proprio la misura è perfetta ok e poi l'ultimo credo sì l'ultimo ecco questo qui invece è l'ordinato settimana scorsa quindi invece è già arrivato dipende proprio da quando arriva nel container questo è semplice ma bello tutto col simbolo dell'infinito anche questo è stupendo e ovviamente trovo sempre la misura giusta da quando ho il misuratore per anelli e per questo giro era tutto ma intanto ve ne mostrerò presto altri visto che questo video sta diventando abbastanza lungo per i fatti suoi ho pensato di farvi vedere alcune cose che mi sono arrivate durante il periodo estivo ma davvero poche allora prima di tutto questo portapenne anche questo ho fatto bellissimo sì ho un po' di penne leggermente particolari se per caso volete un video di cartopazia di tutto da wish comunque con queste cose carine delle penne e altre cose fatemelo sapere ora vi mostro solo il portapenne che davvero è comodissimo ed è anche bello oltretutto anche questo l'avevo visto da mia madre mi è piaciuto e l'ho preso poi cutter questo è il mini cutter piccolini e ha un set da tre gli altri due non so dove sono questo è uno comodi piccolini da aprire i pacchi ok e non contenta questo l'avevo visto tempo fa e l'ho visto anche nei video e lo volevo anche io è un taglierino così fatto a penna io l'ho visto soprattutto per il video delle fai da te ed è comodo la lama si può cambiare si gira si cambia la lama e da qualche parte eccola qui ci sono anche le lame di ricambio ce ne sono davvero tantissime perché qui e poi c'è anche un'altra confezione e veniva tutto il pacco assieme e lo trovo davvero comodo allora fatemi sapere se per caso volete un video di cartopazie e da wish con tutti gli articoli le penne e altre cose perché ho anche delle altre cosine interessanti da farvi vedere ed è con questo video direi che comunque è tutto se vi ho tenuto un pochino di compagnia se vi è qualcosa vi è piaciuto ed è come sempre sto usando uno sfondo ciao sfondo così vado a metterlo via se vi è piaciuto il video se qualche cosa vi interessa fatemelo sapere come sempre con un like e mi raccomando anche di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella così varrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao 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 ciao